Sono il geometra Michele De Robertis, vivo il lavoro a Molfetta, mi occupo principalmente di catastrofe e topografia in ambito regionale, ma grazie a parte della rete dei topografi volanti ho potuto già realizzare un importante lavoro per il monitoraggio di una frana in ambito nazionale dove sono state raccolte diverse professionalità e si è avuto la possibilità di ottenere ottimi risultati.